allora eccoci di nuovo insieme in forco gli occhiali nei nostri studi è arrivato il nostro ospite di oggi abbiamo con noi michele russo dell'azienda il tuo orto ciao michele buongiorno ben trovato ciao toni buongiorno oggi una giornata ricca di notizie io anticipavo i nostri dei spettatori che anche la giornata mondiale delle verdure tu sei qui con noi perché come spiegavo stamattina hai fatto della tua passione la tua professione trasformando un orto di montagna ne parleremo tra pochissimo nel tuo lavoro è un'esperienza molto particolare prima di arrivare alla tua esperienza però voglio recuperare alcuni scatti che ci hanno inviato i nostri telespettatori che ci seguono da tutta italia con attenzione perché avevo chiesto di condividerci qualche foto a tema orto ecco vedo già nel maxi schermo questa carlina di montagna con ape sopra e marzia che ce la invia questa è adesso magari probabilmente è una verdura che io non conosco ma ecco marzia forse può darci anche qualche dettaglio in più poi arrivano i più classici pomodori ce l'invia maria teresa che ci ringrazia per la compagnia e ci scrive viva la natura e poi ritorneremo magari mi chiede su l'imperfezione dei prodotti naturali che sono forse non bellissimi ma sicuramente genuini e poi se vado avanti leggo buongiorno la mia pianta di zucca nel mio orto nello stesso tempo chiedo una preghiera particolare per la mia famiglia a scriverci è domenica da morano sul po in provincia di alessandria e poi peperoncini e pianta di patate francesca di acicastello anche lei ci augura una buona giornata con tanto affetto questa foto credo di vedere direttamente dal suo balcone ancora pomodori raccolti nel mio orto siamo in provincia di como e a scriverci è e maria e poi una buona giornata con il mio basilico una pianta immancabile ce la invia lina poi un mosaico orto casalingo piccolino ma fatto con amore da mio figlio franco così ci scrive adriana dalla maddalena quindi abbiamo fatto un salto anche in sardegna chiudo con il buongiorno con un altro buongiorno e sempre con i frutti dell'orto che ci invia maria concetta da alta villa milicia di palermo vedo in questa in questi due cestini oltre pomodori anche qualche melanzana grazie maria concetta eccola qua e chiudiamo con ancora una pianta di basilico ce la invia rita e ci scrive da le porano in provincia di taranto piante di basilico coltivate dai parrocchiani per la festa patronale di sant'emidio con il ricavato andato in beneficenza bene michele come abbiamo potuto vedere dal nord al sud italia per fortuna la passione per l'orto non è sopita non è passata di moda ecco quanto è importante inserire nella nostra alimentazione le verdure e quanto è ancora più importante rifornirci dai nostri contadini di fiducia di prossimità dai nostri produttori di prossimità allora di nuovo buongiorno toni e grazie alla redazione di teletv radio padre pio per avermi invitato qui stamattina i tuoi discorsi sono fondamentali oggi è importantissimo acquistare dai produttori locali dando fiducia ai contadini del posto in modo tale da ingentivare una forma di agricoltura sana genuina e pulita oggi purtroppo i cambiamenti climatici sono sempre più ricorrenti recentemente abbiamo affrontato parecchi danni da grandine naufragi improvvisi e sono fenomeni ormai sempre più frequenti dovuti anche ad una cattiva gestione dei terreni quindi oggi acquistare da questi produttori locali e ridurre anche i costi di trasporto e l'impatto ambientale che ne deriva è fondamentale appunto per ridurre un cambiamento sempre più incente bravo michele hai fatto delle sagge delle sagge riflessioni e tra l'altro ecco oltre che l'impatto alla riduzione della delle emissioni di co2 nell'ambiente quindi la riduzione del nostro impatto climatico rivolgerci a produttori di prossimità senza dubbio può rappresentare anche una scelta più salutare perché il piccolo produttore qui vediamo le foto del tuo orto di montagna sicuramente produce quantità inferiori magari un prodotto esteticamente non perfetto ma sicuramente genuino abbiamo visto vedevo nel maxi schermo anche la pagina facebook del tuo progetto il tuo orto ecco ti chiederei a questo punto come è nato questo progetto e le sue specificità allora la mia piccola attività nasce ormai circa otto anni fa dopo gli studi universitari in scienze agrarie tu sei un agronomo sono un agronomo sì e spinto dalla grande passione che è aumentata poi durante gli studi decisi di acquistare alcuni ettari di terreno sì su in montagna 800 metri da lì ho avviato questa azienda agricola appunto che porta il nome di il tuo orto con la coltivazione di ortaggi a chilometro zero perché siamo ad appena sette chilometri dal centro di san giovanni rotondo dedicandomi alla coltivazione di ortaggi con metodo rigorosamente naturale questo che cosa comporta come abbiamo visto anche dalle foto mandate dai telespettatori gli ortaggi purtroppo possono peccare di qualità estetica ma in compenso hanno delle elevatissime caratteristiche sia nutritive che organolettiche e un consumatore preparato formato che sa apprezzare questi prodotti ovviamente li assapora con gusto sulle sue tavole ecco dicevamo prima tu non sei un contadino improvvisato sei un dottore agronomo è una delle tue caratteristiche anche quella non solo di coltivare prodotti genuini ma anche di fare consapevolezza alimentare infatti in questi anni hai guidato tante persone non solo tra i solchi del tuorto ma anche come stiamo vedendo delle foto tra i banchi delle scuole scuole elementari scuole medie dove finalmente si stanno anche moltiplicando i laboratori di giardinaggio ecco i bambini di oggi tante volte diciamo che non conoscono gli animali quando li vedono dal vivo si meravigliano un po vale lo stesso anche per le verdure perché magari non immaginano quando le trovano sulla tavola che nascono da un seme che viene coltivato con cura con amore e compassione che tante volte deve superare anche tante criticità legate ai fattori climatici come ti sembrano questi ragazzi di oggi quando li incontri nei tuoi percorsi scolastici molti interessati molti incuriositi perché riescono a capire con poche lezioni che dietro ogni prodotto agroalimentare c'è una storia una storia che comincia dal campo piuttosto che dalla stalla quindi un prodotto agroalimentare non nasce direttamente sullo scaffale del supermercato nel banco frigo ma nasce direttamente nella sua storia di origine quindi portare direttamente in azienda portare direttamente a contatto con le piante piuttosto che con gli animali di interesse zootecnico per loro si apre davvero un mondo bene prima di giungere alle battute conclusiva i saluti finali ne approfitterei per andare proprio nel pratico che cosa stai coltivando in questo periodo tra i solchi del tuo orto e quindi che cosa ci consigli di acquistare come verdura di stagione allora come vi ho detto prima l'azienda coltiva esclusivamente ortaggi di stagione quindi ormai siamo tra la fine dell'estate e l'inizio del dell'orto autunno vernino tra i solchi abbiamo ancora qualche ortaggio estivo tra peperone melanzana zucchina melone pomodorino e stiamo ormai preparando i terreni per gli ortaggi autunno vernini quindi tutta la famiglia delle brassiche in pratica il broccolo cosa sono le brassiche è una grossa famiglia botanica dove rientrano alcuni ortaggi tipici della stagione invernale quindi il cavolfiore il broccolo la cima di rapa i cavolletti di bruxelles eccetera eccetera quindi i nostri clienti possono ancora acquistare alcuni ortaggi estivi e a breve entreremo in pieno nella stagione autunno vernina bene michele credo che non poteva esserci modo migliore per celebrare questa giornata mondiale della verdura se venite a san giovanni rotondo contattate il nostro dottore agronomo michele russo attraverso la sua pagina facebook il tuo orto prodotti orto frutticoli e chilometro zero grazie per il tuo esempio per il tuo impegno ecco volevo dire proprio questo oltre che per il tuo impegno anche per il tuo esempio perché oggi soprattutto i giovani non sempre vedono nella campagna una strada per potersi realizzare professionalmente tu invece lo stai facendo in in modo straordinario per cui sei davvero un esempio da seguire mi chiede grazie grazie a te noi restituiamo la linea alla regia e ci troviamo subito dopo la pubblicità per continuare a parlare di sala di sana alimentazione con il dottor salvatore cusenza